Andiamo a leggere il capitolo 1 della seconda epistola ai Tessalonicesi. Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio nostro Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Noi siamo obbligati a rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli, come è ben giusto perché la vostra fede cresce grandemente e l'amore di voi tutti individualmente abbonda l'uno per l'altro. Tanto che noi stessi ci gloriamo di voi nelle Chiese di Dio per la vostra perseveranza e fede in tutte le vostre persecuzioni ed afflizioni che sostenete. Questa è una dimostrazione del giusto giudizio di Dio affinché siate ritenuti degni del Regno di Dio per il quale anche soffrite. Poiché è cosa giusta da parte di Dio rendere afflizione a coloro che vi affliggono e a voi che siete afflitti riposo con noi quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza quando Egli verrà in quel giorno per essere glorificato nei Suoi Santi, per essere ammirato in mezzo a quelli che hanno creduto poiché la nostra testimonianza presso di voi è stata creduta. Anche per questo noi preghiamo del continuo per voi perché il nostro Dio vi ritenga degni di questa vocazione e compia con potenza ogni vostro buon proposito e l'opera della fede affinché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù Cristo in voi e voi in Lui secondo la grazia del nostro Dio e del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Certamente questo non è un passo su cui avete mai sentito predicare, è difficile perché di solito non si tende a toccare questi tasti che sono così presenti nella scrittura così forti e così ben delineati dal Signore. La Chiesa di Tessalonica nacque dal viaggio dell'Apostolo Paolo dal viaggio che cominciò a evangelizzare l'Europa da Filippi dove ricevette delle battiture e dove si convertì il carceriere e dove anche Lidia di Teatira fu toccata mentre lavava i panni l'Apostolo Paolo fu battuto, fu carcerato e dopo di ciò dovete lasciare la città e andando, continuando il viaggio arrivò a Tessalonica a Tessalonica per tre sabbi, per tre settimane certamente noi dobbiamo notare che quest'uomo in tre settimane doveva dare loro una spiritualità trasmetteva una potenza, una grazia, un amore che dava tanta sensibilità e soprattutto fondava le Chiese e dava speranza a tutti coloro che l'ascoltavano e quando andò, cosa successe, fratelli e sorelle? sette tre sabbi nella sinagoga a predicare il Vangelo dicendo che Gesù era il Messia cioè ai Giudei, lui si rivolse ai Giudei dice guardate quello che voi state aspettando è Gesù Cristo, è il Signore Gesù e lo spiegava tramite le scritture possiamo immaginare che toccava Esaia 53, Salmo 22 e spiegava loro l'agnello di Dio dice la scrittura in Atti 17 che pochi Giudei si convertirono però molti Greci invece lo seguirono cioè il Signore toccò il cuore di molti Greci di pochi Giudei e poi dice la parola un gran numero di donne ragguardevoli cioè donne che avevano una posizione nella società sia una posizione sociale sia una posizione economica quindi l'Apostolo Paolo fu l'Evangelista per loro per eccellenza annunziò l'Evangelo e poi dovette fuggire da Tessalonica perché tutti i Giudei si rivolsero contro e cominciarono a perseguitare Paolo presero un fratello, Giasone e cominciarono a mettere in subbuio la città anzi diceva dove è colui che mette sotto sopra il mondo l'Apostolo Paolo non è che metteva lui sotto sopra è il messaggio divino, il messaggio biblico è la parola di Dio che mette sotto sopra il mondo che mette a nudo il peccato del mondo e che determina una differenza tra chi crede e tra chi non crede c'è una differenza c'è una differenza chi ha Gesù e chi non ce l'ha chi vive Cristo e chi non vive Cristo c'è una grande differenza è vero? non si tratta di parole non si tratta solo di dire io credo in Cristo si tratta di io vivo in Cristo io amo Gesù amo fare la sua volontà mi piace stare con Lui mi piace innalzare il suo nome mi piace umiliarmi al suo cospetto e chiedere perdono e chiedere grazia e chiedere spiegazioni per intendere la sua volontà mi piace essere amato da Lui perché essendo amato da Lui posso amare altri il mio amore è a termine o a volte anche intermittente mi sei simpatico o ti amo? mi sei antipatico o non ti amo? invece dell'amore di Dio è continuo è costante non si ferma mai immaginate come lo Spirito Santo ci irrora ci innaffia sempre del suo amore della sua bontà della sua grazia del suo incoraggiamento Lui è sempre all'opera nei nostri cuori è incredibile fratelli e sorelle è incredibile basta un po' di affinità un po' di pensiero un po' di rivolto a Lui perché la grazia di nostro Signore è che Lui basta che noi lo invochiamo e Lui ci risponde non è che pretende da noi lo sa che noi siamo fragili lo sa che noi abbiamo bisogno di Lui ma il fatto di rivolgerci a Lui vi ricordate sulla croce il ladrone poco prima poco prima aveva inveito su di Lui l'aveva mortificato insieme all'altro ladrone in Luca 23 l'aveva preso in giro e poi poco dopo toccato dalla condotta di Gesù dalla grazia sua dall'amore che Lui trasmetteva dalla dignità con cui affrontava la crocifissione lo difese e Gesù senza sentirsi offeso per le sue parole precedenti oggi sarai con me in paradiso guardate la disponibilità di Gesù a perdonare a compatire immediatamente noi a volte impieghiamo tempo abbiamo bisogno di tempo abbiamo bisogno dell'avacro della parola di sentirci toccati invece Gesù niente lo poteva scalfire è vero ora questa chiesa che Paolo fu costretto a lasciare con alcuni fratelli giudei che conoscevano il Vecchio Testamento e che si stavano apprestando incominciare incominciavano a camminare nella grazia chiaramente veniva perseguitata veniva afflitta ma Paolo diceva un qualcosa a cui tutti quanti noi dobbiamo imparare a fare guardate noi siamo obbligati a rendere grazie a Dio per voi fratelli fratelli sapete cos'è che fa bene cos'è che ti fa bene un complimento è vero fare un complimento a un fratello fare un complimento a una sorella a dire la tua fede è preziosa la tua fede è forte l'avversario ci svilisce sempre quelli di fuori ci fanno sempre neri e tante volte oggi la persecuzione è diversa sapete com'è la persecuzione fanno sguardi come se loro ci dovessero compatire come se ne sapessero più di noi quasi come atteggiamenti di come dire lo capisco a questo deficiente che sta parlando è vero è vero e noi anche questa è una persecuzione perché in quel momento tu ti senti mortificato ti senti a dire ma guarda un po' questo qui che non vale niente deve parlare di me è proprio in quel momento che tu devi lasciar correre devi pensare a quello che ha subito Gesù e devi lasciar andare non vale proprio la pena rispondere o litigare anzi speriamo dobbiamo sperare che Dio ci dia un'altra opportunità in modo che questa persona uomo donna che sia possa avere ancora una speranza è vero ma allo stesso tempo fratelli l'apostolo Paolo si rallegrava per la chiesa amè e noi dobbiamo rallegrarci per la nostra chiesa per i fratelli che sono venuti oggi a trovarci Raimondo con la moglie per i fratelli che sono venuti dagli Stati Uniti e che il loro padre ha determinato questa chiesa insieme al pastore Napoleone noi dobbiamo essere sempre riconoscenti a Dio degli uomini e delle donne che si sono serviti per il nostro avanzamento è vero perché Dio fa sempre aiuta sempre fa in modo di mandare uomini e donne a sostegno della chiesa oggi dobbiamo farlo noi dobbiamo farci i complimenti dopo che ci ha lavati da peccati tremendi da azioni malvagie adesso che abbiamo dei semplici difetti caratteriali almeno io parlo per i credenti seri convertiti maturi che amano il Signore che vogliono migliorare ma vi pare che il Signore non ci abbraccia non ci aiuti non ci sostenga come cresce la fede così cresce l'amore come manifesti la fede così manifesti l'amore è direttamente proporzionale non puoi non solo ma non puoi amare a uno sì e l'altro no Dio ha tanto amato il mondo noi nonostante le avversità dobbiamo guardarcene dobbiamo stare attenti essere prudenti come serpenti dice la parola di Dio dobbiamo essere puri il diavolo tentò l'arcangelo Michele voleva disputare sul corpo di Mosè sapete cosa disse l'arcangelo Michele ti sgridi il Signore e poteva fare ben altro cioè aveva un atteggiamento in modo che non venisse coinvolto perché quando noi vogliamo il male di qualcuno o auguriamo il male di qualcuno il primo è a stare male siamo noi siamo noi che poi dobbiamo chiedere perdono al Signore dobbiamo dobbiamo in qualche modo liberarci da questa da questo dolore di aver dispiaciuto Dio uno dei segni uno dei segnali che abbiamo dentro di noi l'amore di Dio sparso per opera dello Spirito Santo è proprio che ci sentiamo dispiaciuti dispiaciuti quando infrangiamo quando andiamo contro sentiamo di aver fatto qualcosa che non piace al Signore e ci dispiaciamo Signore grazie dammi la forza per non dispiacerti più i tessalonicesi venivano afflitti e perseguitati però dicevano dice l'Apostolo Paolo questa è una dimostrazione cioè significa che voi state nel giusto i cristiani vengono perseguitati quando tagliano la parola quando noi dichiariamo che Gesù è l'unico Dio stiamo dicendo che gli altri non sono non ci sono altre divinità quando noi diciamo che una persona non può salvarsi senza ravvedersi e senza abbandonare il peccato noi stiamo dicendo a quella persona tu se non ti ravvedi ti perderai quando noi innalziamo diciamo che dobbiamo essere sottomessi alla parola ubbidire alla parola i superbi stanno male perché non vogliono sentire la sottomissione loro loro non accettano nulla se non se stessi è il proprio io noi dichiariamo una guerra quando diciamo agli altri in chi crediamo e cosa crediamo e come preghiamo e noi veniamo ostacolati in qualche modo veniamo guardati veniamo apostrofati ma quello beati voi quando vi perseguiteranno per motivi di giustizia vuol dire che state facendo la volontà di Dio quando gli altri parlano male del matrimonio o parlano male delle autorità noi diciamo no io ringrazio il Dio per mio marito ringrazio il Dio per mia moglie scende il gelo questo non parla come noi noi non parlo come voi no ma questi fanno questo noi parliamo in un modo diverso e siamo luce dove andiamo e mettiamo e le persone stanno a disagio e quando stanno a disagio o si allontanano o ti allontanano ma per noi è un guadagno gloria a Dio è un guadagno è Dio che ci difende perché quando viene messa in luce la parola è Dio che ci difende è vero allora c'è un'altra cosa il versetto 6 difficilmente qualcuno lo leggerà come pure quelli successivi ma io lo voglio dire in modo che voi sappiate perché dice la parola dice il Signore a me appartiene la vendetta quindi non di fare nessun proposito è scritto così in Isaia non vi fate mai propositi di vendetta o di rivalsa nei confronti di qualcuno guardate cosa dice la parola è Dio perché è cosa giusta da parte di Dio rendere afflizione a coloro che vi affliggono sarà Dio ad agire quando vuole come vuole dove vuole lui è Dio vuole agire come lui Caino fu maledetto Datan e Abiram si aprì la terra e furono inghiottiti è vero Saul morì in battaglia è vero Erode morì Rosodevermi Giuda si impiccò sono cose è vero che non stanno nel nostro potere nel nostro pensiero è Dio che compie che è giusto e che sa come agire come difendere come difendere i suoi al momento opportuno quando Dio voleva liberare Pietro dal carcere mandò degli angeli e gli aprì le porte di ferro e fu liberato Giacomo non lo liberò non lo so lo voleva in cielo Dio è Dio Dio fa come vuole e noi dobbiamo onorare Dio in ogni momento perché tutto per i credenti tutto è sotto il controllo di Dio è vero e poi dice oltre a dire questo lasciamo stare voglio per non dire del capitolo Matteo 23 leggetelo bene quando parla dei farisei perché il pericolo per noi fratelli e sorelle non sono quelli che peccano noi li vediamo sono quelli che aprono la Bibbia e non la sanno leggere che in qualche modo gettano confusione i farisei conoscevano le scritture eppure sapete come l'apostrofo Gesù leggete Matteo 23 li chiamò doppi figli dell'inferno come scamperete al giudizio di Dio ora io mi sono anche domandato come mai queste cose Signore tu le scrivi le fai mettere per iscritto per far sì fratelli e sorelle che noi ci rallegrassimo di come Signore ci ha evitato tutto questo di come ci ha liberato perché noi stavamo nelle tenebre anche noi e Lui ci ha liberato ci ha fatto grazia ci ha dato la gioia di partecipare con i Santi nella luce ci ha dato una gioia incredibile come quando tu scampi un pericolo hai mai scampato un pericolo ti sei mai trovato in un incidente sano sei stato mai liberato all'improvviso cosa hai sentito è vero una gioia mamma mia Signore grazie è vero ho avuto una grazia stavo per morire ho avuto una grazia così anche noi stavamo per morire per l'eternità invece siamo vivi siamo vivi il Signore ci ha donato la vita eterna dice così dice quando Gesù verrà in quel giorno per essere glorificato nei suoi santi perché Gesù verrà Gesù tornerà è vero e noi saremo glorificati in Lui e vedremo Dio nella sua vedremo Gesù nella sua grandezza sarà un'esplosione di gioia un'esplosione d'amore che non è spiegabile non è spiegabile ma Dio ci dice la parola ci dice di rallegrarci con queste parole di rallegrarci il futuro perché quando il Signore ritornerà noi staremo con Lui guardate cosa da che cosa il Signore ci ha liberato da che cosa il Signore ci ha evitato da che cosa non solo in questa vita perché in questa vita comincia il paradiso in questa vita si comincia a vivere con Cristo e si continua sempre migliorando sempre migliorando con Lui in questa vita noi abbiamo iniziato e nonostante le persecuzioni le afflizioni noi possiamo dire come l'Apostolo Paolo che siamo più che vincitori in colui che ci fortifica a me che noi siamo vincitori in Cristo e dobbiamo complimentare fare dei complimenti ai nostri giovani fare dei complimenti ai fratelli alle sorelle a ringraziare Dio per ognuno di voi a essere felici che siamo circondati dall'amore di Dio e dalla grazia di Dio allora non pensate mai come vorreste le persone pensate sempre cosa cosa posso fare per te Signore e rallegratevi in Lui rallegratevi in Lui immaginate e con questo termino voglio leggervi anche un versetto dite a quei Nisaia 35 4 e poi dirò l'ultima cosa che è molto bella dite a quelli che hanno il cuore smarrito ora c'è qualcuno in mezzo a noi che può avere ed è giusto pure che abbia il cuore smarrito per delle situazioni Amen noi lo sappiamo non possiamo andare tutti ci sono dei momenti allora voglio dire a te anima benedetta dite a quelli che hanno il cuore smarrito non so se sei giovane adulto maturo vecchio bambino Dio si rivolge a tutti siate forti non temete ecco il vostro Dio verrà con la vendetta e la retribuzione verrà egli stesso a salvarvi questa è la sua parola è la sua parola e poi c'è l'ultima cosa l'ultima diciamo voglio toccare l'ultimo passo vi ricordate qui abbiamo letto che quando il Signore viene e farà vendetta ora la domanda che io faccio a chiunque la domanda che dobbiamo farci e che deve farsi qualcuno che non conosce Gesù chi è Gesù per te? dissero i discepoli chi è costui che comanda anche i mari ai venti di fermarsi chi è Gesù per te? allora io voglio aggiungere questo al messaggio di oggi quando si parla di vendetta c'è un versetto Isaia 61 2 dove è annunciato quello che è Gesù riprenderà questo versetto in Luca capitolo 4 però non non parlerà non leggerà l'ultimo pezzo l'ultimo due parole non le leggerà andate a vedere a casa Luca 4 quando lui dice nella sinagoga di Nazareth che era venuto per proclamare liberazione ai prigionieri proclamare la libertà a un certo punto si ferma non legge questo qua che è scritto in Isaia 61 è il giorno della vendetta non lo legge perché la vendetta tutta la vendetta se è così posso dire la vendetta è un atto di giustizia che tu stai compiendo nei confronti di una persona che ti ha fatto male tutta la vendetta di Dio è caduta su Gesù quel giorno sulla croce si è concentrata tutto affinché noi potessimo essere liberati dall'ira di Dio non siamo più sotto l'ira di Dio non abbiamo più rabbia più ira perché questi sono i segni non c'è rabbia non c'è ira si qualche volta ci schiacciamo diciamo uffa qual è il problema o pensate che peccate dicendo uffa no ma siamo stati liberati perché tutta la vendetta Gesù ha pagato per tutti affinché fossimo liberi liberi di adorare liberi di amare liberi di ubbidire liberi di essere onesti santi ma che popolo Dio si è scelto posso dire una cosa in ultimo io sono felice di questa chiesa faccio i complimenti a voi per come siete per come lavorate per come vi date a Dio e per come vi darete ancora amén amén perché questa è solo frutto della grazia di Dio sia benedetto il suo nome amén a